bene quindi siamo arrivati alla seconda domenica di quaresima appunto dopo il brano delle tentazioni che è stato un brano parecchio impegnativo anche su cui fare i conti perché ci riguarda molto da vicino e questa volta invece parliamo della trasfigurazione che sembra qualcosa di molto particolare molto lontano qualcosa che che ci sfiora a differenza delle tentazioni che sono presenti continuamente ma in realtà è una della trasfigurazione ha delle potenzialità infinite è veramente una ricchezza di un coinvolgimento impressionante e a me piace pensare un po a questo brano come come diviso in tre parti no è ovvio la prima parte la salita sul monte la seconda parte è lo stare sul monte e la terza parte appunto la discesa dal monte ecco ognuna di queste tre parti merita un'attenzione ma merita un commento a parte perché abbiamo bisogno di essere portati fuori che cosa vuol dire andare sul monte vuol dire essere portati fuori vuol dire avere bisogno di restare soli con dio e di sentirci dire da lui chi siamo veramente quindi per sentirci destinatari di una grande opera di redenzione ecco è interessante importante io penso che il cammino quaresimale sia sostanzialmente questo quello di stare con il signore ovviamente pentirsi ovviamente cercare di vivere anche al meglio quei consigli evangelici che il signore ci dava durante il vangelo di mercolio delle ceneri però essere capaci appunto di stare con lui e quindi uscire in disparte cercare di uscire più possibile un po da quelle da quelle abitudini da quei modi di fare da quelle consuetudini che troppo spesso rischiano un po di paralizzarci no di rendere anche la vita come posso dire abitudinaria poco interessante poco saporita perché comunque ne conosciamo già i contorni e allora questo andare sul monte è molto importante perché ci permette da uscire un po da quegli schemi no da quelle abitudini ed è interessante che il vangelo dice che è gesù che porta i suoi discepoli discepoli a cui voleva bene sul monte sapete in quel momento c'era una una profonda incomprensione no con i discepoli perché erano in tanti c'era una folla immensa che si doveva il signore no dopo che il signore aveva fatto la moltiplicazione dei panni dei pesci c'era creata una folla immensa che lo seguiva anche lui si spaventa perché capisce che la maggior parte delle persone lo segue ma ha frainteso il suo messaggio hanno capito praticamente tutti che ci penserà lui a nutrirli ci penserà lui a dare tutto a dare loro ciò tutto ciò di cui hanno bisogno e allora il signore si dice chi non prende la sua croce non è degno di me non potrà seguirmi solo coloro che sono disposto a sacrificare se stessi possono seguire ecco allora che se prima erano migliaia che lo seguivano no come quando c'è stata la moltiplicazione quel miracolo quel miracolo molto appariscente molto grande molto importante che ci sono fece sulle sponde dell'ago di tiberi ed è dove pian piano incominciano tutti ad andarsene e anche i suoi discepoli anche il signore rimane profondamente turbato no si gira dai suoi discepoli dice ma volete per caso andarvene anche voi e allora ecco che c'è la famosa risposta di pietro il signore di a chi andremo solo due parole di vita eterna ma in realtà il signore comprende bene che anche i discepoli sono un po turbati hanno non sono così più convinti anche loro sono rimasti scioccati un po come la folla la folla se l'andata i discepoli per amicizia per amore del signore sono rimasti ma il signore comprende benissimo che c'è un frattentimento di fondo e allora decide quel giorno di perdere con sé i tre più cari di portarli sul monte e di fargli vedere di fargli ammirare di fargli constatare affinché siano testimoni questa magnificenza della sua persona della sua divinità del paradiso al quale siamo tutti chiamati quindi è bello vedere che è proprio il signore che nel momento in cui ci vede anche in difficoltà nel momento in cui ci vede anche in affanno è quello che ci invita a fare questa esperienza di tabor ecco credo che la realtà geografica del monte tabor su in galilea ci suggerisca che questo andare di sparte è appunto la caratteristica del silenzio della contemplazione che è rinunciabile ma anche quella dello spostarsi cioè quella di andare al di là di quei luoghi di quelle realtà dove abbiamo messo radici e su cui ormai camminiamo con disipoltura ma noi abbiamo bisogno di andare in disparte e di lasciare che il signore ci conduca appunto in disparte e io come faccio come faccio io a non vederci anche in questo senso la missione la capacità appunto di andare un poiché al di là delle proprie abitudini al di là delle proprie consuetudini essere trasbordati a migliaia di chilometri di distanza e avere dei faccia a faccia degli incontri con delle con con delle persone che ragionano in modo diverso che pregano anche in modo diverso quindi io immagino davvero anche l'esperienza missionaria come un andare in disparte dicevamo anche la settimana scorsa no adottare un nuovo punto di vista che appunto ci permette di essere più capaci di conoscere il mistero di dio perché questo andare in disparte ci permette di conoscere più a fondo l'amore e la missione e la vocazione il progetto che dio su di noi ecco vedere le persone che non solo hanno un altro colore ma anche degli altri interessi probabilmente delle altre priorità è estremamente importante estremamente avvicente anche vedere a me ogni tanto ogni 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 tanto tanto mi capita appunto di andare a fare un giri spiaggia è qui è qui vicino è qui vicino a casa nostra e mi colpisce vedere appunto l'oceano no l'oceano indiano che è qui a pochi metri da casa nostra e mi colpisce perché questo l'orizzonte quanto sia dilatato l'orizzonte quanto è impensabile è veramente scioccante no quasi quasi impressionante pensare che dopo diecimila chilometri di mare aperto c'è l'Australia quindi è qualcosa davvero che ci dice andare in disparte vedere le cose da un altro punto di vista vedere la grandiosità del mondo essere capaci di fare di adottare di vivere anche una dimensione culturale sapienziale che non ci appartiene ma che ci arricchisce come chi ad esempio va su un monte appunto andare sul monte tabor ciò che prima ti sembrava ciò che quando quando eri sulla base di questo monte c'erano delle cose che ti colpevano probabilmente poi pian piano che tu sali il panorama stilata sempre di più diventa più vasto e quelle cose che prima sembravano importanti enormi che avevi accanto a te in realtà perdono il significato perdono l'importanza perché vai sempre più in alto e il panorama e lo sguardo raccoglie giunge un'opportunità che il signore ci offre andare in disparte non è necessario andare in madagascar o andare alle strade si può fare anche a casa si può fare anche nelle periferie ma andare in sparte capite bene che significa uscire da ciò in cui ci muoviamo bene in cui sappiamo di cui conosciamo c'è le coordinate ma che in realtà ci limita e ci come posso dire non ci impoverisce ma ci ci evita appunto di allargare lo sguardo e di essere più simili a come il signore ci vuole ecco allora perché è importante pensare che lui che ci conduce fuori perché qualcosa da donarci e da chiederci di molto importante e non possiamo farlo nel dubinio delle nostre azioni quotidiane nella confusione nel meticiato di quello che avviene appunto tutti i giorni nella nostra vita e poi il secondo passo ovviamente rimanere sul monte è bello è proprio bello trassuda proprio gioia quelle quella quella cosa che dice pietro signore è bello per voi essere qui è vero è bello stare con dio è bello riconoscerne la presenza è bello contemplarne il volto è bello essere faccia a faccia con lui riconoscere appunto la sua presenza la sua forza edificante che qui vicino vicino a noi che ci che appunto ci ci che abbraccia la nostra vita la nostra esperienza quando siamo finalmente soli con il signore possiamo intravedere la profondità delle cose e possiamo riconoscere l'invito quella andare in disparte con lui per il quale ci siamo impegnati per il quale abbiamo deciso di abbandonare quei sentieri sicuri ma troppo spesso parziali monchi che su cui camminavamo con disinvoltura precedentemente ecco pietro giustamente dice è bello per noi stare signore è bello stare con te e quello che loro vedono non è più ciò che loro percepiscono con gli occhi ma possono vedere finalmente ciò che dio vede in cristo ciò che cristo è autenticamente e quindi questo l'esperienza del paradiso è quella di stare sul bonte insieme a nostro signore e insieme alle persone a cui vogliamo bere e poi quando noi abbiamo la fortuna la grazia di fare esperienza del tabor cioè il tabor ci riempie la vita l'esperienza di riconoscere la presenza di dio ci riempie la vita non importa quanti anni abbiamo se siamo ragazzi se siamo giovani siamo sacerdoti se siamo se siamo nonni se siamo nonne l'esperienza del tabor è da fare l'andare se non andiamo in disparte non possiamo fare esperienza di tabor e l'esperienza di tabor da non solo da una pennellata alla nostra vita ma fonda completamente tutta la nostra vita noi pensiamo che l'esperienza di tabor sia qualcosa che si esaurisce all'interno di se stessa ma non è assolutamente vero perché l'esperienza del tabor ci accompagnerà dappertutto persino nei luoghi più inaspettati e non e noi possiamo fare esperienza di tabor esperienza di trasfigurazione anche dove meno ce lo aspettiamo la fantasia di dio che ci invita che ci porta in disparte anche in un luogo dove non avevo mai potuto pensare di incontrarlo ma ecco che si rivela ecco che ci rivela qualcosa che si presenta in un modo in una veste con un colto completamente inaspettato ma assolutamente originale ecco io in questo in questo tempo ma anche quando dire in italia ma in particolare in questo tempo andando in disparte accettando l'invito ad andare in disparte lasciando appunto il signore spingere perché possiamo andare in disparte ecco io ho fatto diverse esperienze di tabor ho sentito il signore vicino ho sentito la sua pre la sua presenza la sua la sua forza il suo spirito appunto che incorreggiava che rindigoriva e che entusiasmava io vi faccio un esempio perché è stato secondo me un'esperienza molto significativa l'anno scorso durante il durante a natale e ho accettato l'invito del vescovo e qui della nostra diocesi a fare una messa insieme con lui in carcere ecco il carcere di manacara è uno dei luoghi più più terribili in assoluto cioè è uno dei posti più malsani più infimi dove poter stare dove poter scegliere di andare io ogni tanto ci sono stato ci sono dei parrocchiani abbiamo portato abbiamo portato il pranzo per tutti abbiamo fatto la messa ovviamente una piccolissima percentuale cristiana però è stato bello anche perché diciamo che non è che ci sono tante attività da fare in carcere e quindi diciamo che praticamente tutti sono venuti da assistere alla messa ad ascoltare quello che dicevamo a cantare un po insieme con noi e quindi è stato molto bello animare questo momento e e io mi sono primo un po in imbarazzo un po fuori luogo perché non è un luogo qui ero particolarmente affine particolarmente difficile abituarsi a vedere delle persone che stanno così male è difficile anche riuscire a spiegare a chi sta a casa che cosa c'è davvero dentro quelle mura quelle piccole mura piccole che ci sono 600 persone per per qualche centinaio di metri quadri quindi vabbè al di là di questo però mi colpia colpito alla fine della messa vedere il vescovo nostro vescovo qui Gaetano già piuttosto anzenotto che prende su e va in mezzo ai detenuti no che erano lì con il loro straccio addosso accovacciati per seguire questa liturgia un po strano un po bizzarra per molti di loro e va e va verso di loro questi qua al vederlo passare si alzano c'è chi gli stringe la mano c'è chi lo abbraccia e lui è stato almeno secondo me 20 25 minuti a fare il giro almeno a quelli che erano tutti lì in prossimità almeno 200 200 persone le ha incontrate personalmente ed è stato qualcosa di profondamente intenso io che non vi ho partecipato che inizierò poi a farlo nelle volte successive sono rimasto profondamente colpito perché dico ma tanto ci vuole un bel coraggio e poi ci vuole davvero uno spirito evangelico no per fare questo e e mi ricordo che una delle cose che ho detto al vescovo quando è ritornato all'altare è stato proprio signore cioè non signore è detto buon signore è bello per noi per me stare qui grazie per avermi invitato grazie per avermi portato qui non avrei mai pensato minimamente che all'interno del carcere di manacara si potesse fare esperienza di tavo eppure è stato possibile quindi davvero basta essere un attimo attenti ecco non essere troppo distratti perché io credo che ci siano tante possibilità tanti modi con cui il signore ci incontra ci propone anche attraverso l'invito di un amico attraverso anche l'esortazione familiare una proposta ci sono davvero infinite possibilità ed è davvero bello anche lasciare che sia il signore a fare tutto quel signore tante volte programmiamo programmiamo devo fare silenzio devo andare qui devo andare in questo posto devo fare questo ritiro e facciamo tutta la nostra agenda ma lasciamo che sia il signore con la sua fantasia con la sua originalità a preparare la scaletta della nostra quaresima a fare questo non vuol dire non fare programmazione assolutamente però lasciare lasciarci lasciarci plasmare lasciarci entusiasmare lasciarci sorprendere dall'originalità di cristo ecco ogni luogo si trascende al nostro sguardo seppur sfortunato sporco poco desiderabile ma ci presenta una realtà che divenire e che desidero ottenere ecco stare sul monte che bello signore stare qui è bello stare qui poi ad esempio posso anche dire che alla alla sorgente della mia vocazione c'è stata la mia parrocchia sassuolo quando c'era questo ambiente di educatori c'era questo ambiente con i non sacerdote con con don luca ma poi anche con tutti questi educatori questi 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 begli esempi i giovani si era creato un ambiente per cui era bello stare lì da da quella da quella bellezza sono scaturite tante vocazioni fra cui la mia anche però creare un ambiente quello proprio che io cerco anche di fare qui cercare di creare anche in parrocchia un ambiente poi questo non vuol dire che sarà l'unico posto in cui signori incontreranno cristo perché potrebbero incontrarlo in carcere all'università in spiaggia a casa o dove andrà però creare un ambiente fare in modo che il signore possa presentarsi affascinare tanti giovani anche attraverso la presenza di un ambiente positivo dove si respira aria buona anche sul monte d'età probabilmente si respira aria buona 800 metri d'altezza se non mi sbaglio ci sono stato anch'io ecco respirare la buona vivere con tanto entusiasmo anche la possibilità di lasciarsi formare all'interno di un ambiente positivo ecco poi il terzo momento di scendere dal monte di scendere dal monte tante volte questo vangelo lo conosciamo bene no e tante volte noi ci sentiamo dire me lo ricordo che anche a catechismo dicevamo e me lo dicevano che una volta fatta esperienza di tavor cioè aver fatto esperienza della bellezza e della presenza e dello sguardo del signore a questo punto dobbiamo scendere dal monte per tornare alla vita di tutti i giorni eh ed essere capaci di di vivere con maggiore entusiasmo il nostro impegno quotidiano ecco questo è vero però io credo che sia riduttivo perché il tabor non è qualcosa che noi viviamo in quel momento in quel giorno in quell'ora e poi si conclude lì e adesso che noi dobbiamo vivere poi noi dovremo vivere di rendita per cercare di portare il tabor dove noi andremo ecco in realtà il tabor lo si farà per sempre perché nel momento in cui uno riconosce la presenza di Dio si sente voluto bene si sente accompagnato ecco allora che questo questa esperienza non rimane semplicemente un pallido ricordo a cui possiamo attingere per per ritrovare energia poi per il futuro ma diventa qualcosa di integrante della nostra vita che sarà per noi che sarà nostro per sempre che sarà con noi per sempre noi scenderemo da questo mondo andremo nella nostra pianura no andremo a rincontrare le nostre cose saremo sempre torneremo un po le nostre abitudini perché il tabor non può durare per sempre però durare per sempre dal punto di vista emotivo però è anche vero che bisogna farlo maturare questo innamoramento va fatto solidificare va fatto cristallizzare perché diventi qualcosa che ci apparterrà per sempre ecco perché è davvero qualcosa che gli innamorati di Cristo si portano sempre con loro ecco e andare andare nel mondo scendere e avere questo ricordo che non è semplicemente un ricordo ma è qualcosa che è presente nel nostro cuore nella nostra vita e io credo davvero che che una cosa molto bella sia sia vivere tutto questo anche con con questa sorta di intimità di silenzio il signore dice ecco torniamo insieme con gli altri voi avete mi avete visto voi mi avete visto il mio volto trasfigurato avete visto il mio sguardo brillare al sole avete sentito le parole del padre avete visto musee dell'ia che conversavano con me avete visto quanto erano lucenti le mie vesti quanto brillavano i miei occhi ecco questo ricordo dovrà rimanere con voi per sempre questa esperienza diventa sapienza che sarà con voi per sempre questa questa gioia la dovrete la dovrete portare in pianura e fin sul monte calvario per essere forti nel momento in cui ti sarà chiesto di essere forti ma voi sarete forti perché avete fatto esperienza di tavolo ecco perché è fondamentale per noi di noi fare esperienza di tavolo non un cristiano non può esimersi non può rinunciare non può far finta che non sia importante riconoscere la presenza del signore che davvero sentiremo nostra nostra per sempre e poi lasciare ritornare con il signore laddove il signore ci chiederà non abbiamo più paura nei momenti in cui abbiamo fatto esperienza di tavolo non avremo più paura e noi saremo sempre con dio e lasceremo che dio ci condurrà laddove noi non avremo mai immaginato e lasceremo che dio plasmerà lasceremo a dio plasmare il nostro futuro perché noi non sappiamo come sarà il nostro futuro questo è vero per i giovani in particolare non sappiamo che cosa il signore ha pensato per noi non sappiamo che cosa come si risorge non sappiamo come come ci si salva non sappiamo come dio ci porterà in paradiso non sappiamo quale strada in quale strada appunto ci metterà in quale strada ci quale strada ci inviterà a percorrere eh ma è bello pensare a quello che dice anche il profeta isaia che fra l'altro leggeremo questa domenica farò camminare i cechi per vie che non conoscono ma pensate quanto è bello poter camminare per via che ancora non conosciamo quanto entusiasmante perché sappiamo che il primo lui sarà con noi secondo queste vie sono molto più ampie molto più ricche di quello che noi possiamo immaginare tante volte noi possiamo avere dei progetti dei sogni ma quello che dio ci propone è ancora più al di là è ancora più grande è ancora più inaspettato ma per fortuna è così perché se non fosse così vorrebbe dire che dio non è abbastanza grande che dio si limita ai nostri piccoli progetti ai nostri ai nostri ai nostri piccoli sussulti quotidiani mentre invece non sappiamo come dio ci porterà in paradiso lasciamo che sia lui a condurci in cima al monte e poi dopo anche a passare tutta la nostra vita come se fosse un tabor insieme con lui ecco la pedagogia di dio se posso sintetizzare la pedagogia di dio è portarci per una strada che non conosciamo perché se la comprendessimo sarebbe piccola come noi la strada per arrivare alle cose veramente belle le cose eterne dove siamo diretti quindi dove stiamo andando che cosa ci chiede il signore di fare di essere siamo partiti è vero abbiamo fatto un tratto di strada il fatto che noi stasera stiamo qui attenti a seguire questo momento di preghiera un giovedì sera qualsiasi significa che probabilmente abbiamo riconosciuto nella nostra vita la presenza di dio e riconosciamo importante del poter poter andare in disparte con lui ecco siamo partiti è vero stiamo camminando sui sentieri sconosciuti io dal mio punto di vista sicuramente e lo stiamo facendo insieme in questo senso occorre silenzio preghiera unità ed entusiasmo l'entusiasmo di chi si sente entusiasmo arriva appunto anche più dal greo che vuol dire riconoscere sentire la presenza di dio la presenza dell'eterno che sollecita che invita che che colora che donna forza alla nostra vita ecco ecco io credo che dopo l'esperienza del 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 deserto il signore questa seconda domenica ci invita ad andare in disparte con lui siamo appena alla seconda domenica di quaresima ci sono ancora quattro cinque settimane sarebbe davvero una grande grazia poter andare disparte con lui fuori saremo noi a sceglierlo fuori sarà lui a spingerci sarà lui a invitarci attraverso un amico attraverso un conoscente attraverso una parola che ascoltiamo che precepiamo ecco però facciamo esperienze di tavolo io credo che sia anche molto importante di tanto di tanto dire signore signore forza mostrami la tua gloria fammi partecipe della tua divinità aiutami a comprendere e a vivere profondamente ciò per cui sono stato chiamato ciò che tu hai pensato e vissuto per me in modo tale da poter arrivare alla pasqua in questo in questo in questa dimensione di trasfigurazione con questa gioia nel cuore e nella certezza che siamo entrati in una strada che il signore ha pensato e che ci condurrà probabilmente non dove noi abbiamo pensato ma attraverso dei sentieri dei cammini e delle prospettive nuove inaspettate e assolutamente originali io rimango per lo meno per la mia esperienza ma forse nel mio caso nella mia situazione particolarissima è molto è molto particolare e mi rendo conto che è molto originale però io mi rendo conto di come ogni anno ci siano novità talmente belle talmente grandi talmente talmente ricche di fascino che rimango ogni volta impressionato ogni anno ogni tanto peso ma che cosa è successo negli ultimi mesi ma che cosa ci sta chiedendo il signore di fare adesso al di là di questa esperienza bella della missione del conoscere persone anche questa esperienza ultima questa dell'esperienza dell'università ai ragazzi universitari questa proposta di creare questo questo ateneo insieme con dei collaboratori io credo che sia qualcosa che fino a poco tempo fa era assolutamente impensabile mai avrei immaginato mai avrei pensato anche solo sei mesi fa a questa a questa ricchezza questa prospettiva ecco lasciamoci affascinare dal signore chiediamo al signore signore conducimi per queste strade ma poi dobbiamo essere docci nel poterlo farlo stare con lui e non essere sempre lì a fare tutti i calcoli a prendere tutte le misure perché le nostre misure sono cenere eh a differenza di quello che il signore ha pensato per noi le nostre le nostre misure i nostri calcoli sono sono parziali sono approssimativi non tengono conto di tante variabili di tanta ricchezza di tanto splendore che il signore ha pensato per noi quindi abbiamo fatto forse fatica la settimana scorsa perché con le tentazioni avevamo abbiamo dovuto fare i conti con ciò che ci inquieta quotidianamente ma io penso che oggi con l'esperienza del tabbo il signore ci invita e ci dica forza voi siete stati creati per l'eternità voi siete stati creati per la bellezza voi siete stati creati per lo stupore e quindi eh secondo me nonostante la quaresima però secondo me e non siamo ancora la domenica in letare però secondo me è un messaggio molto bello molto profondo che il signore ci offre che la chiesa ci offre in questo secondo domenica grazie per dare il signore ci offro un calcio